Un'altra città 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 No. Siete qua ragazze? Ve li firma copie di J.A. Ve li firma copie, avete il cd? Com'è? Qual è? Fermo un po'. Ragazzi siete qui per J.A.? Sì, ovviamente. Per li firma copie? Sì. Da che ora siete qua? Dalle nove e mezza. Eh ragazzi, un pezzetto di una piccola canzone? Cominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarvi.